Buongiorno a tutti, oggi è il 25 aprile festa della liberazione dal nazifascismo, ripercorriamo brevemente gli eventi del 25 aprile 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale proclama l'insurrezione in tutti i territori ancora occupati dalle truppe fasciste tedesche, tre giorni dopo Benito Mussolini verrà fucilato, sarà la fine della dittatura in Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio ieri ha dichiarato è stato il nostro secondo risorgimento, la storia non si riscrive. Noi siamo collegati in diretta con Casoli, un luogo simbolico per la storia della Brigata Maiella, sul posto c'è Daniela Senepa, a te la linea Daniela. Buongiorno, è così, la storia non si riscrive e qui a Casoli nelle montagne, qui intorno, la storia della Repubblica ha preso il suo inizio, qui si è formato, ha preso forma, sostanza, senso e forza il concetto di resistenza, perché prima della Brigata Maiella c'erano i banditi, ma banditi perché, non perché delinquessero, ma perché erano banditi dalle varie ordinanze fasciste. Qui i ragazzi si sono organizzati appunto prima in bande e poi, poco dopo, vi ricordo che qui siamo veramente a due passi dalla linea Gustav, una poderosa linea difensiva voluta da Hitler. Vi dicevo, i giovani di questi luoghi e dei luoghi vicini si sono organizzati per resistere, hanno resistito, hanno liberato prima Bologna, poi sono arrivati ad Asiago, ma il concetto di liberazione e di resistenza parte da qui, da Casoli di Chieti, un paesino piccolo se si vuole, ma fondamentale nella storia della libertà e della Repubblica. Ma ne parleremo nei collegamenti che ci saranno. Roberta, ti rido la linea. E allora, 74 anni fa l'insurrezione delle forze partigiane in Italia che liberarono dal nazifascismo e il paese. Noi siamo collegati con Casoli, la nostra inviata è Daniela Senepa. Daniela, perché Casoli è un luogo simbolico? Perché Casoli è un luogo simbolico? Ce lo facciamo dire dal sindaco Massimo Tiberini. Io però, Roberta, prima vi vorrei fare vedere, oltre alle bandiere, ai carbinieri che ringraziamo sempre alle nostre spalle, quella sequenza di fotografie perché ritraggono coloro che hanno perso la vita qui a Casoli nei campi di concentramento e internamento. Perché oltre ai grandi, tristemente notissimi campi di concentramento che hanno fatto la storia di 6 milioni di morti, qui a Casoli, sindaco, c'erano i campi di concentramento, ma Casoli è anche l'inizio della libertà di questo paese. Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Casoli, teatro della nascita della Costituzione della Brigata Maiella. Casoli, teatro dei campi di concentramento e internamento. C'erano tre, con ebrei, con chi era contro il fascismo. E quindi Casoli nasce la Brigata Maiella e la presenza del Presidente della Repubblica l'anno scorso ci ha testimoniato di questa profondità di lotta di liberazione che è stata fatta sì da patrioti della Maiella, ma come ha sottolineato anche il Presidente, dai civili, dalle famiglie, dalla popolazione che non poteva sopportare l'oppressione di qualsiasi colore esso sia. Beh, intanto il colore era nazifascista, perché come ha detto ieri il Presidente Mattarella la storia non si riscrive, questa è la nostra storia, per cui si tratta della liberazione dal nazifascismo. E mentre il Presidente dice che la storia non si riscrive, qui si è scritta e lei ha anche la responsabilità di custodire questa storia e anche di in qualche maniera divulgarla, perché non diamo per scontato che tutti si sappia tutto, sono tempi un po' difficili diciamo sul punto e quindi il suo ruolo è importante. E questo è verissimo, infatti Casoli è diventato il paese della memoria, testimonianza unica, importante, condivisibile con il resto del mondo. Un bellissimo lavoro fatto da un nostro ricercatore casolano, il dottor Laurentini, ha scritto un libro, L'Ozio Coatto, che descrive come queste popolazioni venivano confinate qui a Casoli, il perché e il come. Ed anche nel castello Ducale di Casoli, via il passaggio e la testimonianza nelle sale Uigram, del Presidente della Repubblica, dell'Ottava Armata, veramente della nascita e costruzione della Brigata Maiella. Ecco, anche perché la Brigata Maiella era stata, come dire, inglobata nell'Ottava Armata, il che significava dare anche proprio un crisma di combattenti alla Brigata Maiella, che peraltro è l'unica decorata di medaglia d'oro. Assolutamente sì, infatti il passaggio fondamentale è questo, da Patrioti della Maiella a Brigata Maiella, ovvero sia i Patrioti normalmente rimanevano nelle proprie città, nei propri comuni a liberare il proprio paese, ma loro, i Patrioti della Maiella, a capo, l'avvocato Ettore Troio, il Vice Comandante Domenico Troio, sono andati oltre, oltre l'Abruzzo, sono andati nelle Marche, sono andati il 21 aprile a liberare Bologna, fin anche ad arrivare a Brisichella e questo è un passaggio fondamentale. A noi questo passaggio ci ha anche consentito di legarci come città gemellata con Castel San Pietro Terme, perché il 17 aprile la Brigata Maiella era a Castel San Pietro Terme. Ecco, per ora terminiamo questo primo collegamento, grazie al Sindaco di Casoli, e poi ascolteremo il figlio di un partigiano. A dopo. E allora noi torniamo proprio in diretta, ci colleghiamo con Casoli, di nuovo, dove c'è per noi Daniela Senepa e ha un ospite speciale. Daniela, a te la linea. Sì, è così, l'ospite è Carlo Caniglia, figlio di Nicola Caniglia, partigiano di Casoli, a cui peraltro è intitolata la sezione dell'AMPI, proprio dell'Associazione Nazionale Partigiane d'Italia di Casoli. Lei ha vissuto, sebbene bambino, insomma il clima dell'insurrezione, lei ha vissuto e inglobato, fin nelle viscere, il concetto di libertà e di cosa significhi essere partigiano. Buongiorno. Certo, fin dalla più tenera età, crescendo in una famiglia di partigiani, sono stato educato al culto della libertà, della democrazia, della solidarietà, fin dalla più tenera età, che erano poi i valori che hanno guidato i nostri partigiani, la solidarietà verso le altre popolazioni italiane ancora sotto il gioco nazista e fascista, la solidarietà con le popolazioni che avevano sofferto dell'oppressione, dei bombardamenti, del passaggio dei fronti. La solidarietà con tutti gli altri popoli, tanto è vero che lo spirito di solidarietà e forse uno di quelli che li ha aiutati ad andare avanti dall'Abruzzo alle Marche, dalle Marche alla Romagna, dalla Romagna fino ad Asiago. Probabilmente è stato uno degli elementi più caratterizzanti della loro attività, la solidarietà, la libertà. Senta signor Carlo, secondo lei, lei che ha vissuto questa esperienza così da vicino e non in prima persona per via dell'anagrafe, insomma, in Italia, ove mai, roba che non è all'orizzonte, ma ove mai ve ne fosse bisogno, ci sarebbe ancora il coraggio di essere o diventare partigiani? È una domanda difficile. In genere le grandi azioni dell'uomo sono svolte sotto la necessità, l'impellenza degli eventi. In una società di benessere come la nostra può diventare più complesso, proprio perché in genere il benessere porta a rimandare i problemi. La necessità, l'impellenza porta ad affrontare immediatamente i problemi. Quindi nella nostra realtà odierna, che è molto diversa da quella del 1944, potrebbe avvenire. Ecco, è molto profonda, molto forte e importante la lezione di Carlo Caniglia, figlio di Partigiano. Io, Robarta, chiudo qui il collegamento, non prima di dirvi però che tra breve in tanti andranno a Taranta Pelligna, poco distante di qui, al sacrario della Brigata Maiella, a porgere non solo l'omaggio, ma la totale condivisione di tutto quello che quei ragazzi hanno fatto per questo Paese e quindi per tutti noi. Linea allo studio. E noi da Taranta ci ricollegheremo nel telegiornale delle 14. Taranta e Casoli saranno al centro delle 14.